Dispiace, non per me, dispiace per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire perché al fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così, dispiace che l'ultima partita diciamo ufficiale sia coincisa con una non qualificazione mondiale.